Carissimi amici, buonasera e bentornati sul canale per i patetici digitali. In uno dei video precedentemente pubblicati su questo canale dedicati alla fisura di Aristotele abbiamo già cercato di delineare che cosa si intenda per metafisica, ma questo video vuole essere un approfondimento per cercare di approfondire ulteriormente il significato di questa conoscenza. Il termine, come avevamo già detto, è di genesi incerta. Fino a poco tempo fa si riteneva che il termine fosse nato in seguito all'edizione di Andronico di Rodi, il quale dopo i libri di fisica pubblicò in 14 libri l'opera che venne appunto definita metafisica. Intendendo quindi con questa espressione le cose che vengono dopo quelle fisiche. Da qualche tempo però la tesi è caduta in crisi ed è stato accertato ovviamente in seguito degli studi di antichi cataloghi almeno la possibilità che il termine possa essere molto più antico. L'oscurità dell'origine del termine comporta ovviamente anche una conseguente oscurità circa il significato che colui che per primo lo cognò. Già gli antichi commentatori peripatetici e neoplatonici avevano proposto due interpretazioni. La prima, metafisica, significava la scienza che viene dopo la fisica. La seconda, metafisica, è la scienza che si occupa delle realtà che sono oltre quelle fisiche, ossia delle realtà soprafisiche. Ora queste due interpretazioni da un punto di vista aristotelico non si escludono ma anzi si implicano a vicenda. Infatti la conoscenza delle cose che sono ulteriori ontologicamente rispetto a quelle fisiche è anche per l'uomo cronologicamente ulteriore dato che noi conosciamo per nostra natura prima le cose fisiche e solo dopo c'è successivamente quelle non fisiche, anche se queste ultime sono di per sé gerarchicamente anteriori rispetto a quelle fisiche. Ora siccome il termine non è di conio aristotelico ed è poi divenuto insostituibile nella cultura occidentale, è chiaro che con il termine metafisica non si intende solo la dottrina quindi contenuta nei 14 libri dell'opera aristotelica che porta appunto questo nome, ma in generale si intende quella problematica di tutti i pensatori che hanno indagato intorno a quegli oggetti discussi appunto nella indagine circa i principi, le cause prime, l'essere, la sostanza, Dio e anche quindi il divino. Quindi in senso forte la metafisica è il tentativo di raggiungere il trascendente, il metasensibile, ma in senso più generale possiamo intendere con il termine metafisica quel tipo di indagine che ricerca le cause e i principi ultimativi della realtà, di qualsiasi natura essi siano. Quindi possiamo parlare di metafisica per intendere ogni tentativo di misurarsi razionalmente con l'intero e quindi avremo delle metafisiche trascendentistiche come quelle di Platone e di Aristotele e quelle che sono derivate da questi filosofi, di metafisiche naturalistiche come quelle dei presocratici che non hanno ancora scoperto la trascendenza, oppure metafisiche corporeistiche immanentistiche come ad esempio quella dell'epicureismo e dello stoicismo che negano la trascendenza. Se vogliamo essere ancora più ricorosi potremmo riservare la qualifica di metafisica solo alle prime due che abbiamo citato e chiamare quindi con il termine ontologia le seconde. Ma è chiaro che in questo caso le difficoltà tolte da una parte rispuntano dall'altra, giarche ontologia sono anche quelle di Platone e di Aristotele e la definizione metafisica, quindi come tentativo di misurarsi razionalmente col problema dell'intero, resta in realtà la più adeguata. Carissimi amici, vi ringrazio per l'attenzione, spero che questo video possa esservi stato utile. Se il video vi è piaciuto lasciate un grande like e vi ricordo che potete iscrivervi gratuitamente al canale per essere aggiornati sui prossimi contenuti. Grazie e buona serata a tutti.